Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive2.0 Lo scorso mese di maggio ho fatto un video intitolato Basi extraterrestri sotto i nostri oceani Se volete visionarlo, per chi non lo ha fatto, trovate il link in descrizione Vi ricordo questo perché ultimamente si parla molto di UAP o UFO come volete chiamarli che si immergono sott'acqua Nel video di oggi vi farò vedere due video amatoriali di pochi giorni fa di strane luci sotto la superficie del mare che mi hanno davvero sorpreso Questo potrebbe veramente far pensare che gli alieni hanno basi sottomarina? L'ufologo Gary Heseltine ha detto che non provengono dallo spazio ma dalle profondità del mare L'esperto ne ha parlato al tabloi britannico The Sun riferendosi a un video con strane collisioni di UFO con navi da guerra statunitensi sott'acqua Gli UFO spesso entrano ed escono dall'acqua il che solleva il sospetto che potrebbero esserci basi aliene nei nostri oceani e trincee più profonde ha detto Gary Heseltine Secondo l'esperto sappiamo molto di più sulla superficie della luna e di Marte che sulle profondità delle nostre acque che sono studiate solo del 5% Inoltre a giudicare dalle osservazioni degli esperti gli UFO appaiono periodicamente sul mare Per riconoscerli gli Stati Uniti hanno persino inviato sottomarini nelle zone di mare L'esperto ha anche aggiunto che sembra esserci una relazione tra gli UFO e gli impianti nucleari pericolosi che si tratti di porteri nucleari, armi nucleari, sottomarini o centrali elettriche Questo potrebbe indicare che stanno dicendo Non ci piacciono le armi nucleari Forse capiscono che possiamo distruggere questo bellissimo pianeta ha detto Heseltine Adesso vi faccio vedere un oggetto luminoso non identificato catturato sott'acqua a largo della costa di Miami Guardate il video Dio La notte Unsere Guardate? Attack Attack Somebody 24 Mro Si Si phone Mi Mi Sottot'acqua Ce Guardando questo video, se realmente si tratta di un UFO, sappiamo che sono in grado di muoversi sia sott'acqua che attraverso l'aria, questo dovuto ai sistemi di propulsione dell'oggetto non identificato. Questo è tutt'altro che un caso isolato in cui UFO vengono registrati in entrata e in uscita dall'oceano. E questo, probabilmente, ricordano i video trapelati della Marina degli Stati Uniti, dove un UFO si tuffa sott'acqua, girato dall'equipaggio di un caccia torpediniere americano. Ora vi faccio vedere un altro video alquanto interessante, ripreso nel mese di maggio scorso. Si tratta di un altro avvistamento catturato sulla superficie del mare in Russia. Andrei Chesnokov ha pubblicato un video in cui ha catturato un oggetto insolito che era sotto l'aereo volando ad un'altitudine di 10 km, ma sopra il fitto strato di nuvole. Guardate il video. Guardate il video. Guardate il video. Guardate il video. Molto probabilmente, l'UFO non era visibile dal suolo. Secondo Henry, tutto è accaduto la mattina del 9 maggio del 2021. Ha guardato dal finestrino e ha notato un intenso bagliore sotto il denso velo di nuvole. L'oggetto ha emesso un bagliore pulsante proprio sul bordo della nuvola. Secondo il testimone oculare, l'UFO pulsava con una luce rossa e gialla. Dopo pochi chilometri ha osservato un secondo UFO situato nella stessa quota. Il secondo UFO ha emesso un bagliore più debole ma che pulsava lo stesso. Ciò che il testimone oculare è riuscito a catturare nella fotocamera è ancora un mistero. Dopo aver visto queste immagini, sembra che ci troviamo davvero di fronte a oggetti sconosciuti sotto le acque ed è difficile da dire se ci troviamo di fronte a veri oggetti non terrestri sott'acqua. Una cosa comunque certa, il mare ultimamente è diventato più misterioso del cielo per quanto riguarda gli avvistamenti UFO. Tuttavia, pochi giorni fa è stato lanciato l'allarme che la Cina non aveva nulla a che fare con quello che sta succedendo riguardo la declassificazione del Pentagono che, come già abbiamo detto, secondo funzionari possono essere coinvolti sia la Russia o la Cina con droni sofisticati e avanzati. La Cina ha dichiarato che non c'entra assolutamente con questi oggetti e in più l'esercito cinese sta usando l'intelligenza artificiale per tracciare e studiare gli oggetti volanti sconosciuti. Sì, proprio così, perché sembrerebbe che anche in Cina stia accadendo qualcosa di strano. Secondo quanto riferito, i ricercatori militari cinesi hanno fatto ricorso all'intelligenza artificiale per tracciare e analizzare il numero crescente di oggetti misteriosi nello spazio aereo cinese. Una task force dell'esercito popolare di liberazione dedicata agli oggetti sconosciuti si affida sempre più alla tecnologia dell'intelligenza artificiale per analizzare i propri dati secondo un rapporto del ricercatore di Wuhan, Chen Li della cinese Air Force. Secondo il rapporto, i misteriosi oggetti aerei sono chiamati come condizioni d'aria non identificate, una frase che riecheggia i fenomeni aerei non identificati dell'esercito americano, ma al pubblico sono meglio conosciuti come UFO. Chen afferma che gli analisti sono stati sopraffatti negli ultimi anni dei rapporti di avvistamento e rapida crescita proveniente da una vasta gamma di fonti militari e civili, in tutto il paese. Il ricercatore cinese ha affermato che uno dei vantaggi dell'intelligenza artificiale è che può pensare fuori dagli schemi, controllando molti set di dati creati in tempi e luoghi diversi e disegnando collegamenti non visti dagli occhi umani, per aiutare a determinare se gli avvistamenti erano causati da un paese ostile, appassionati di aviazione dilettante, naturali o altri motivi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la sede dell'esercito popolare di liberazione assegna un indice di minaccia a ciascun oggetto in base al suo comportamento, frequenza di occorrenza, design aerodinamico, radioattività, possibile fabbricazione materiali insieme a qualsiasi altra informazione. L'intelligenza artificiale può raccogliere altre informazioni che possono aiutare a determinare lo scopo di un oggetto. Ad esempio, se oggetti sconosciuti simili hanno la tendenza ad apparire durante i principali eventi politici o esercitazioni militari, secondo il rapporto è più probabile che si tratti di un dispositivo artificiale utilizzato da un altro paese per raccogliere informazioni. Nel frattempo, l'aumento delle attività militari statunitensi nel mar cinese meridionale e in altre acque sensibili vicino alla Cina potrebbe anche spiegare l'aumento della comparsa di oggetti che non possono essere immediatamente spiegati, ha affermato il ricercatore, che ha chiesto di non essere nominato a causa della delicatezza dell'argomento. Ricordiamo che l'unico avvistamento UFO confermato ufficialmente dalla Cina è avvenuto su una base aerea militare Kansu, in provincia di Hebei, il 19 ottobre 1998. Secondo un articolo dell'Hebei Daily, quotidiano ufficiale della provincia vicino a Pechino, a due jet militari è stato ordinato di intercettare un aereo a bassa quota, oggetto volante apparso improvvisamente sopra la base aerea. L'oggetto sembrava un fungo dalle gambe corte, con due fasci di luce che scendevano dal suo ventre. Quando i jet si sono avvicinati, l'oggetto è salito con una velocità fantasma fino a un'altitudine di oltre 20.000 metri, prima di scomparire dal radar e dal contatto visivo. Ma sappiamo benissimo che il regime cinese, in quanto ad informazioni, non spicca di certo per trasparenza. Sembrerebbe che il clima riguardante UFO si sta veramente surriscaldando e non soltanto per quanto riguarda gli Stati Uniti, a quanto pare sta cominciando ad allargarsi anche ad altri paesi. Ma come sempre continueremo ad indagare su quello che succederà nei prossimi mesi. Io ti ringrazio per l'attenzione, spero che il video ti sia piaciuto. Ancora tante grazie per aver seguito le informazioni di EarthLive 2.0. Vi invito a condividere il video e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti!